Mi trovo qui in questo momento con Kevin del B-side Allora anzitutto un riassunto da parte del guardia linea Sì ho fatto il guardia linea oggi e volevo fare complimenti ai miei ragazzi qua perché nonostante l'altra squadra fosse nettamente superiore tatticamente tutto superiore sono più forti sono sempre primi e 7-8 anni che sono sempre in testa devo fare i complimenti a tutta la squadra perché ha giocato discretamente complimenti al capitano che ha segnato una gran rete e possiamo dire che forza B-side vinceremo la prossima Sapete già contro chi giocata la prossima? Sapete già contro chi giocata la prossima? Saletti, Floricoltura Saletti In casa? Dovremmo essere fuori casa se non erro Se non erro Ah e ultima domanda perché la felpa da Juventus? Perché sono Gobbo fino alla morte Grazie a tutti e salutiamo Ciao a tutti